Grazie, grazie Felix, buongiorno, buongiorno a tutti. Felix e la sua squadra mi hanno chiesto di darvi un po' di contesto per questa conferenza, per quello che succede qui oggi. Loro ho pensato di parlare per qualche minuto di comunità, di apertura e di idee. Se noi guardiamo alla storia del progresso umano, che è molto ben rappresentata in questa sala, ci rendiamo conto che il vero motore del progresso, dell'innovazione, dell'avanzamento umano sono le idee, ma sono soprattutto gli incontri di idee, i confronti e gli scontri di idee, che poi generano e danno luogo a idee nuove, migliori, più innovative, più efficaci, più forti. E quindi la storia continua a progredire. Ma c'è una condizione per che le idee possano incontrarsi, confrontarsi e scontrarsi, ed è che circolano apertamente e liberamente. E a TED questa è un po' la nostra missione, trovare e sviluppare dei modi per aiutare le buone idee a circolare e a diffondersi. E lo facciamo in molti modi. TED nasce 27 anni fa, quindi c'è una lunga storia dietro questa organizzazione. Ma per i primi vent'anni TED è stata una conferenza annuale. Mille persone in California a confrontarsi su idee dai settori della tecnologia, e dal design dell'architettura dell'innovazione e dei media dell'arte. E poi nel 2005 abbiamo cominciato a sviluppare attorno a questo tutto una serie di altre attività. Una seconda conferenza annuale, TED Global in Europa, un sito web, TED.com, dove le conferenze come quelle che hanno luogo qui oggi, gli speech di oggi, sono poi distribuiti a livello mondiale, con sottotitoli in dozzine di lingue, in formato video, gratuitamente, ma anche una collezione di libri elettronici, una fellowship, un premio annuale, collaborazioni con aziende, con catene televisive, e naturalmente il programma TEDx di cui fate parte oggi. Tutto questo converge un po' in questa idea di creare una piattaforma globale per identificare e per diffondere apertamente, liberamente, gratuitamente, nuove e buone idee. Appunto con questo concetto in mente che le idee possono veramente costituire il motore del progresso e dell'avanzamento umano. TEDx è una parte fondamentale di questa piattaforma, è un programma che abbiamo iniziato due anni e mezzo fa. TED è un'organizzazione non-profit, è una fondazione basata a New York con attività internazionali, e negli anni siamo stati sollecitati sempre di più per andare ad organizzare conferenze in altre parti del mondo e naturalmente non possiamo moltiplicare il numero di conferenze, però abbiamo trovato un modo chiamato TEDx per permettere a dei membri della comunità di TED a livello locale e in modo indipendente di organizzare la loro propria conferenza esattamente come questa in modo totalmente indipendente. Ma sotto il marchio TEDx e seguendo il modello delle nostre conferenze, cioè un modello che si vuole non politico, non commerciale, non religioso, quindi non vuol dire che non parliamo di politica o che non parliamo di impresa o di economia, vuol dire che non è un luogo per promuovere un prodotto o per promuovere una campagna elettorale, è un luogo per discutere e per condividere idee. E quindi in questa direzione abbiamo offerto la possibilità a chiunque condividesse questa intenzione di organizzare il loro proprio evento utilizzando il marchio, i metodi, eccetera, di TED in modo gratuito. Quindi non è per noi un modo per guadagnare dei soldi, è un modo veramente per allargare la piattaforma e la comunità. E quello che è successo è che noi ci aspettavamo una trentina, una quarantina di conferenze nel primo anno. Eramo molto contenti di questa prospettiva perché improvvisamente avremmo avuto una piattaforma molto più vasta. Quello che è successo è che ne abbiamo avute 2.500, in 111 paesi, in 46 lingue, in luoghi come questi, da Stoccolma a Giacarta, dalla NASA alla sede del Parlamento Europeo, da Ginevra alla Tunisia del prima e dopo rivoluzione, quindi dicembre e marzo, dicembre l'anno scorso, marzo di quest'anno. Oggi stesso c'è un TEDx a Baghdad, in Iraq, eccetera. 2.500 avvenimenti di tutti i tipi, grandi come questo, piccoli, 50 persone, in sale spettacolari come questa, o in palestre scolastiche, in teatri, in municipi, in centri congressi, organizzati in modo molto professionale o meno professionale, ma non ha importanza. Quel che ha importanza veramente è che tutti muovono da una stessa intenzione, quella di ritrovarsi e condividere idee nella convinzione che le idee hanno un potere per muovere le cose. Tutti questi eventi sono organizzati in modo assolutamente indipendente. Noi a TED non svolgiamo nessun ruolo altro che dare il marchio, il formato, metodologia e un certo tipo di strumenti agli organizzatori locali. Quindi quello che vedete qua oggi è tutto merito di Felix e della sua squadra e noi non c'entriamo proprio nulla e penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Bravo Felix! L'altra cosa interessante che è successa è che rapidissimamente questo modello non soltanto si è diffuso nei numeri ma è arrivato in luoghi che non ci aspettavamo di toccare. Questa è Kibera, è la più grande bidonville d'Africa, a Nairobi. Un milione di persone ci vivono. E lì in mezzo da qualche parte una di quelle capanne è utilizzata come centro di ritrovo della comunità. Il primo TEDx è svolto già nel 2009. Questo è un giovane imprenditore, Tony Indungo, che è venuto a raccontare la sua esperienza, come ha fatto prima Selene su questo palco. Ci sono stati un paio di altri interventi, hanno visto un paio di video e hanno discusso. Da allora ce ne sono stati altri e TEDx Kibera è diventato un po' un catalizzatore di innovazione all'interno di questa comunità. Questo è Fatepur, Rajasthan in India, una cittadina indiana come tutte le altre. Salvo che lì vive una ragazza, una donna, trentenne ormai, Maserat Dawood. All'epoca, due anni fa, quando ha cominciato a interessarsi a TEDx, era non sposata. e voleva portare TEDx nella sua città. E si è scontrata con una quantità di problemi, di ostacoli, di resistenze. Perché? Perché una giovane donna musulmana non sposata non era veramente la persona più adatta per salire su un palco e organizzare, presentare una conferenza con degli speaker maschi, degli speaker uomini. Ma ha superato gli ostacoli, ha continuato ad andare avanti e ha attirato mille persone al suo evanimento in Rajasthan. Oppure a Gerusalemme, dove una donna palestinese, una donna israeliana, che non si conoscevano fino a quando si sono incontrate a TED, hanno deciso di organizzare assieme TEDx Holy Land, TEDx Terra Santa, con degli speaker soltanto donne. Non per parlare di Israele e di Palestina, ma per parlare di architettura, di design, di educazione, eccetera. Quindi di soluzioni per problemi. O in Amazzonia, in quell'hotel sul fiume, un'ora a nord di Manaus, con partecipanti da tutti i paesi amazonici. O ancora, ultimo esempio, un modello sviluppato dalla comunità di organizzatori di TEDx, non da noi, degli avvenimenti come questo, ma per i giovani, sul palco e nel pubblico, in occasione delle giornate della gioventù dichiarate dall'ONU ogni anno a fine novembre. Questo era l'anno scorso, 60 avvenimenti per giovani in giro per il mondo. Quest'anno, fra pochi giorni, più di 120 avvenimenti in giro per il mondo. Tutti generati dalla comunità di organizzatori di TEDx. Questi sono gli avvenimenti TEDx già annunciati per i prossimi sei mesi. Dove c'è una crocetta rossa, vuol dire che non ci sono più biglietti a disposizione. Questo vi dà non soltanto un'idea della distribuzione mondiale, ma vi dice anche che continua ad esserci una grande sete per questo tipo di cose, per la capacità di confrontarsi in uno spazio neutro, dove nessuno cerca di vendere nulla, ma dove tutti cercano di contribuire delle idee, di ascoltare quelle degli altri e assieme di renderle migliori. Grazie mille per averne fatto parte. Grazie. Grazie. Grazie.